si non si chiama accendi un po' accendi dai tutti i fumatori bisognava accendere porta la bottiglia porta la bottiglia e poi questi fumano le canne e buongiorno accendere e poi questi fumano le canne ahahahahah dai che era dai che era dai che era si vede la mia mamma è mercolociclo no lascia accesa lascia accesa lascia accesa non lo divertisci papà vedi vedi una chiara qua sono soffiare passate qua guarda 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 nonna guarda 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 no 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 abbraccio 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 non la mia non non i noni con la legge non si mette la mano a mezza ho vestito in blu ma dito pagatino francese oh mi sa che mi andava a piatto zitto non andava a fare la fotografia stambiato ma che non è stato a fa l'uomo riusciti a me la mia famiglia la mia la mia la mia ci sono i miei a me la mia la mia la la mia l'amore non è un'altra cosa si fa quando non è giocato riscaldi l'amore 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 non c'è un po' da una volta non c'è un po' da un po' il video se non è vero e se non è vero questa è una cosa non è vero non è vero gioco ma che si sa ma che si sa ma che si sa fare buon anno io la faccio pure così ahahah ma che sto scema e se non mi dice solo se tutto posso credere che non ci vanno fuori qui e sapete che lo sci ma si vede si vede si vede si vede per l'uomo che mi dobbiamo passare? ma si! sono i carini ma i carini ma ci sono i carini ma guarda che c'è che c'è ma i carini ma non c'è entrato niente se non c'è senso attraverso i 10 milioni di spesa non c'è solo che non c'è bravo 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 fermo fermo bravo 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 si chiara facendo la torre che stanno che ne pensi questa situazione? che ne pensi questa situazione? vedi venite io sono appagato le vuole danni no? c'è solo la scotta questa gente ma dove la scotta? non dà la corda ma l'ha portato tanto l'ha uscita e l'ha uscita dove che vuoi? ho deciso è caricato è caricato è caricata è caricata è caricata sono due anni che c'è la a me una volta mi sento mi sento mi sento e stavo in giro ma che stavo in giro non sapeva che... gli ha detto ugo vedi che gli ha detto ugo ma ci sento e non lo parti qua giù ma io no ma a me sono mangiato questo messica non voglio le fai io oppure tu le fai il tavolo devo partire le mie ma con me ma con papà non posso andare in suo partito che hanno fatto le scala per me la nominativa oh no non mangia la mia stai sagge la mia la mia la mia la mia la mia la mia la 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 grazie signor ma lor signor sei nato a un goccetto mamma ma la porta a casa ma la porta a casa se la faccio a casa a casa io la bottiglia metta a Fabio me la marchi ecco la ponte a che non si sta facendo franco non credo che il rossino stanno macchando il rossino che è il primo di naso è il primo di naso ma si sta facendo ma facciamo sentire non c'è buono come è sto vino? buono buono non mi so se stanno la metà dicono che non mi dicono niente no 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 è chiuso e quando uno non dice niente vabbè e quando uno cominciò a dire che schifo allora è una roba chiusa è una roba chiusa a niente montala al caso stai fuori casa a qua ci vorrei fare un po' con il vino prendo un po' con il vino prendo un po' con il vino quando c'è la sinistra prendo un po' con il venti gradi non si vede più forte è vero è vero è vero sta diventando il cerro allora io mi faccio un po' con il vino oddio funziona poi va non si vede più forte non si vede più forte se lo vuole debiti mandare la calacrosa oh cosa riva che mi faccio ne scusate? non mi faccio ne scusate scusate Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.